Allora, il cavo, ci siamo, tutto a posto, fai una prova chitarra, c'è? Allora, dovete sapere che lui, la sua passione per la musica nasce circa due anni fa, giusto? Due anni fa, da solo, autodidatta, prende in mano una chitarra, una chitarra regalata dal nonno, così perché lui si faceva le chitarre di cartone e faceva finta di suonare. Anche il nonno gli ha regalato la chitarra vera e si è messo subito a suonare, a orecchio, a sentire le canzoni che gli piacevano. Lui ha iniziato con una cosa strana, con i Beatles, si è innamorato dei Beatles, ha iniziato a suonare le canzoni, poi da lì, dalla chitarra classica, chitarra elettrica, tastiera, ukulele, l'armonica pure a bocca, poi c'è di tutto, di più, adesso e questa sera è qui a Missoria per esibirsi con una colonna sonora storica di un film che lo scorso anno ha celebrato i suoi 40 anni, il film Il Padrino, Salvo Jones. Grazie a tutti. 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 Salvo Jones e iscriviti al canale. Iscrivetevi al canale, poi dicevi... Sì, applauso, applauso. Cliccare la campanellina, giusto? Questa è una cosa importante, perché che succede se uno clicca la campanellina? non vi arriveranno le notifiche. Non vi arriveranno le notifiche quando carico nuovi video. perfetto. 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 Salvo Jones, grazie a tutti. Salvo Jones, grazie a tutti. Questo è l'applauso di Missoria per te. Sì, sì, il microfono arriva per Giada, ecco qui. Allora...